Continua, e questo si poteva tranquillamente preventivare, la carel sulla scelta della prossima sede della Film Commission in Abruzzo. Ad inizio settimana, proprio ai microfoni del Tg8, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, aveva confermato l'Aquila e Palazzo Dragonetti come sedi principali, confermando come fossero però legittime le volontà del Comune di Pescara nell'ottenere almeno una succursale. Oggi però, a dare ancora più sale alla questione, ci ha pensato il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, convinto sostenitore della consigliera comunale, Cristina Marroni, forse la prima a spingere per Teramo come sede unica. Sì, è uno spunto importante, è discusso già da tempo, abbiamo partecipato a una riunione regionale. La provincia di Teramo si rende da subito disponibile a fornire gli spazi ai locali e a renderli idonei. La Film Commission è un'opportunità che non deve assolutamente mancare per la provincia di Teramo, anche per ridare riequilibrio a quello che è una ripartizione a livello regionale circa le scelte politiche. Quindi noi dobbiamo e siamo fermamente convinti che possiamo dare tutte le opportunità, tutto lo spunto, tutto il supporto necessario affinché Teramo sia la sede per tutta la regionale per la Film Commission. Il sindaco Biondi ha ribadito nei giorni scorsi che il presidente Marsiglio ha già scelto la sede per la Film Commission che sarà il capoluogo di regione, quindi l'Aquila. Quale potrebbe essere la soluzione per trovare una sorta di concertazione e quindi una sorta di equilibrio, come l'ha chiamato lei? Di raggiacelto indica la gravità della politica messa in atto dalla regione, quindi non ha consultato opportunamente i territori. Assolutamente dovrebbe riequilibrare nelle quattro province con la Film Commission. È un'opportunità anche per Marsiglio per dare un'importanza alla provincia di Teramo rispetto alla regione Abruzzo. Faccio appello agli elettori affinché comprendano quanto questa provincia non sia neanche presa in considerazione e per questo la politica regionale, i politici del Consiglio regionale di maggioranza dovrebbero farsi sentire di più affinché Teramo possa avere delle risposte adeguate. Vogliamo assolutamente andare al tavolo di trattativa per comprendere e far capire quanto Teramo è il luogo ideale e quanto può Teramo avere un ruolo importante per ospitare la Film Commission. Insomma, le ponemiche non si placano, anzi, evidentemente nei prossimi giorni ci saranno ulteriori dichiarazioni da parte degli enti coinvolti prima di arrivare alla decisione definitiva.